Musica Ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo nuovamente su Uncharted Drake Fortune Pronti per continuare la nostra avventura a caccia di Eldorado Siamo esattamente nel punto dove ci siamo salutati ieri E adesso continuiamo la nostra ricerca di Elena Andiamo un po' negli angoli qui Non c'è niente Abbiamo preso le chiavi, abbiamo aperto la stanza Siamo qui dentro Saranno delle celle qui, delle segrete saranno queste no? Molto probabile Non è che mi fanno vedere delle armi No preferisco questo Grazie a tutti Ma perché c'è quello là? Ma perché c'è quello? C'è quello? Magà ce l'ho faccio ... Oh Cazzo fai a beccarmi da lì Oh è il loot Cavolo però non ho il Ma 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 Cavolo quello come cascita lo faccio fuori Non trovi il lancio granate Oh Vabbè se tipo il lancio granate lo potrai fare fuori Cazzo fai a beccarmi da lì Cazzo fai a me Cazzo fai a me Finalmente Le saliamo Faccio da qualcosa forse Noi di sbrilluccicante fuori non ho visto nulla quindi Cazzo fai a me Ello giù Cazzo fai a me Si vede Olè Ehm Wie Un Accidenti Merda no, sono lanciato contro no 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 come la mingga so sempre las muestras las eh quizás come maia Tanto prima ragazzi abbiamo sbloccato il trofeo riscoso Ah mi stai sicuramente prendendo per il fondo No! Non farlo! Hanno fatto il respawn qui lì sotto Eh sì, sono quelli lì sotto Vediamo, oh aia Va bene Vediamo un po' Quelli non sono spagnoli Sono inglesi Fletcher, siamo stati alla torre Spero che potremmo vederci lì Fletcher? Non sarà mica un antenato della signora Fletcher? Wow, così ce l'avevi fatta Ma cosa avevi in mente? Eccolo lì Andiamo su nel cielo blu Ok Ma qui è dove siamo tornati prima, no? Mi sa di no Questa deve essere la torre di Drake Fantastico ragazzi Da dove arrivano i colpi? Ah, è lì Ok 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 Mmm Fattemi a esplorar un poco Tipo qua c'erano dei colpi Qua da dove sono arrivato Arrivò qualcosa di sbrilluccicante Cioè non lo so Non solo armi qua Quindi Quindi Ci mancano ancora una cinquantina di tesori ragazzi Per trovarli tutti Ne ho trovate tipo undici Io su sessanta Olè Saliamo Ok Eccoci qua Traversato Lo vediamo qua No non c'è niente dietro che sbrilluccica Dov'è andata? Certo che Oh No No perché io non ce l'ho figlio Ok Allora Volevo andare qua sopra E però Aspetta Fammi vedere Allora Allora Ok Ah ok Ecco come si faceva Ok Sopra non si può andare Quindi si scende Olè Ok Dove siamo passati Anche prima No? Come entrare qui dentro Perfetto Perfetto Ragazzi di sbrilluccicante Non ho visto niente Poi se qualcuno sa dove stanno Quelli in questa zona Bene o male Me lo faccio sapere nei commenti qui sotto Questo doveva essere di Drake Oh Insomma cosa stavi cercando? Se non lo sai tu Va beh Ha un'area familiare La nave non l'hai mai salvata Elena Ehi eccola lì Guarda qui Accidenti Porco No secondo me dovevamo mandar così Non sarò una cercatrice di tesori come te Ma Dubito che troverai il dorado lì dentro Come ti sei cacciato in questo guai? Cercando di salvarti In effetti Oh come sei dolce Oh certo Tradizionali mattoni d'arenaria e stucco Malta calcarea E perché ne sei tanto in proposito? Il mio programma Episodio 4 Architetti del nuovo mondo Già Basterà uno strattone e verranno via Cosa? No aspetta Sei sicuro? Fatti da parte Vodo C'è qualcosa che vediamo questa dannata porta No cavolo Ehi Drake Eddie Ragia Dovevo immaginarlo Affascinante documento eh? Già Pare che questo Sir Francis facesse lo stesso lavoro Non darti delle aria Eddie Sempre pronto ad attaccare eh? Sai che ti dico? Portami a loro E forse ti lascerò vivere Però la voce di sto qua non mi è nuova eh raga Questo è l'accordo Aiutarti a morire dopo Oppure morire subito Scelta difficile Ma sai una cosa? Scelgo morire subito Ascolta bene Terme Mi è stato promesso un tesoro Su questo maledetto sasso E ora I miei uomini muoiono Non possono nemmeno andare a fare i piti Senza una scorta armata E io non ho niente da dargli in cambio Ti sto facendo un'offerta equa Aiutami a trovare il tesoro E chi sopravviverà si prenderà l'oro E la ragazza ovviamente La ragazza? Oh eh Di lei se n'è andata da un pezzo Ormai sarà fuori dall'isola Cerca di aiuto Dai Kuchin Non sei mai stato bravo a bleffare Ah si? Questi Ah 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 Ok Ottimo l'amore Grazie Eh 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 Bucca ha vinto Stieni Mi sa che ci sarà da sparare Via via No Ho capito come ammazzare i furgoni Olè Il quad con il mitra Olè Fantastico Niente male Questo si può definire un livello Adrenalinico Olè Sì Olè Dai Elena però guida Veloce E mo Sì ma così ritorniamo indietro Torniamo nella tanna del lupo Dai 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 Stiamo in una grotta Là Fatto Sì ma li avevamo pure dietro Olè Due in uno raga Vai 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 Chi è quel tipo Eh che ne so io Attenzione Oh no Tieni Eh va Minchia Oh Eh sì Cadiamo tutte e due Ok Oh no Ci è andata bene Sì sto bene Ma tu stai sanguidando Sì capita in queste zone Andiamoci Stiamo incagliati Forza Ma merda Eh ma Sì Taci Scommetto che anche tu Lavori per loro Cosa Lo rolli Pensavate di potermi fregare E di tenere tutto per voi Eh Oh piano Troppo anche Stai calmo amico Beh La vostra fortuna è finita E anche la vostra ricerca Ora Datemi la mappa Resistire Va bene D'accordo È presto fatto Ehi Non muovere Tranquillo Eddie Sto solo prendendo la mappa Come hai chiesto Ho detto ferma Lo sono Bene Passa qui Beh mi hai appena detto di non muovere Sembra che dovrai venire a prendertela Dai Come Splash Via via Olle ragazzi Io direi che per oggi Possa essere tutto La prossima volta Ripartiremo da qui Io come sempre Vi invito A lasciare Un bel like A commentare Condividere Iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.